Buongiorno, buongiorno a tutti. Desideravo informarvi del fatto che se mi vedete un attimino più assente è perché il mio computer in questo momento è in assistenza dato che ha deciso di entrare in coma momentanea, si spera, dopo forse 12 anni di vita e nessun problema quindi è anche comprensibile, sono stato anche abbastanza fortunato. Nel frattempo vi sto registrando tantissimi altri video, fra prove su ciocche di erbe tintorie, altri dettagli sulla copertura dei capelli bianchi, della preparazione e dell'applicazione dell'erbe e tantissime, tantissime recensioni. Credo che a breve dovrebbero ridarmi il computer e quindi mi posso tranquillamente organizzare, ammontare e pubblicare i video. Però volevo chiedervi la cortesia di scrivermi giù nei commenti se avete qualche argomento che vi sta a cuore, magari sulle erbe, sui capelli o di un particolare prodotto e ne volete sapere di più, magari volete che io ne tratti meglio in qualche video, così mi organizzo e tento di accontentarvi. Per cui niente, lasciatemi un commento e scrivetemi che cosa vi può interessare maggiormente, che io, cioè magari qualche argomento di cui non ho parlato sul mio canale o ne ho parlato in maniera un po' approssimativa e così ho tento di organizzarmi. Nel frattempo spero abbiate un minimo di comprensione, dato che sono stato colto da questa cosa all'improvviso, perché il mio computer ha avuto una vita lunghissima e ancora non ha intenzione di smettere di funzionare perché lo stanno riparando e non credo ci sia alcun problema, per cui, a farlo resuscitare intendo. Per cui niente, fatemi sapere e ci rivediamo sicuramente presto, grazie, ciao!